Siamo negli studi di Aska News con Antonio Cerasa, neuroscienziato, ricercatore del CNR. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, io con lei vorrei parlare delle possibili nuove frontiere delle neuroscienze, in particolare del contributo che a queste può dare l'intelligenza artificiale. Un argomento che lei tratta nell'ultimo capitolo del libro La scatola magica, all'origine delle neuroscienze, che ha scritto insieme a un altro neuroscienziato, Francesco Tomaiolo, e che è uscito quest'anno. Ecco, il libro ripercorre la storia delle neuroscienze attraverso alcune figure e alcune scoperte, quindi non è esaustivo, che hanno portato a svelare molti aspetti del cervello e del suo funzionamento. Ecco, in che modo le neuroscienze hanno cambiato la conoscenza della scatola magica? Allora, innanzitutto ringrazio Francesco Tomaiolo che mi ha dato una mano a fare questa ricerca storica in cui siamo andati a trovare tracce di modernità. Con Francesco siamo andati appunto a vedere i nostri padri fondatori della nostra disciplina e abbiamo trovato alcuni personaggi. C'è un personaggio, che le volevo presentare, che risponde alla sua domanda. Questo personaggio si chiama Peter Miller, non è molto famoso, è più famoso per il fatto che era il marito di Brenda Miller. Peter però era un ingegnere che si occupava di radar, non c'entrava niente col cervello, con le neuroscienze. Un bel giorno la moglie gli dice, ma perché non vieni a lavorare con me, che è bellissimo, ci divertiamo, studiamo il cervello. Peter accetta, comincia a lavorare, ovviamente gliela faccio breve, conosce un giovane ragazzo, si chiama James Holtz, è un giovane psicologo, che era appena laureato e insieme scoprono l'area delle emozioni. Quindi, per puro caso, un po' di serendipiti, un po' di caso, fanno una delle più grandi scoperte delle neuroscienze. Quindi la risposta alla sua domanda sta nel fatto che le neuroscienze hanno portato questa multidisciplinarità nello studio della scatola magica, cose che altre discipline non possono portare. Un ingegnere e uno psicologo hanno scoperto quello che forse un biologo avrebbe dovuto scoprire, un medico. Invece l'hanno scoperto loro. Quindi questa multidisciplinarità è anche insita in un altro personaggio di cui parliamo, che è Wider Penfield, che ha costruito per primo nel 1934 il primo tempio delle neuroscienze e lui l'ha costruito con questo scopo, curare le malattie, ma per curare le malattie non basta solo il neurologo o il neurochirurgo, servono altre discipline, quindi soltanto insieme, tutte insieme le discipline scientifiche possono occuparsi di un organo così complesso come la scatola magica, come il cervello umano. Ecco, dicevamo complesso. Su che cosa attualmente, avendo ancora molte cose da scoprire, sta puntando la ricerca? Quali domande vuole rispondere? In particolare con l'intelligenza artificiale la parola magica è previsione. Si cerca di prevedere il comportamento umano. Io per esempio sono occupato di sviluppare algoritmi insieme agli ingegneri che prevedessero se la mia personalità poteva essere simile a quella di un giocatore d'azzardo patologico e quindi prevedere se io ho una vulnerabilità al gioco d'azzardo oppure prevedere se la mia smemoratezza potrà un giorno diventare Alzheimer anche di questo ci siamo occupati con altri colleghi oppure prevedere se, ancora più importante, ma questo è già effettivo nella pratica clinica, prevedere tramite gli algoritmi di intelligenza artificiale se il mio tumore evolverà o meno a qualcosa di maligno o no. Bene, tutte queste evidenze, tutta questa grandissima opportunità che ci hanno oggi l'intelligenza artificiale però difficilmente riescono a passare nella pratica clinica di tutti i giorni. E questo dipende da tante cose, una in particolare di cui non si parla quando uno va su internet non trova molte informazioni ma trova tante proclami ma poche informazioni come per esempio il fatto che non si sa come gestire bene il dato. chi è la privacy del paziente, dove viene messa l'immagine, dove viene storata lo storage, come viene protetta. Tutto quello che riguarda la giurisprudenza, le norme giurisprudizie, aspetto normativo, è ancora in totale divenire e sono leggi europee che continuamente cambiano. Quindi questo è un aspetto, per esempio in Italia pochissimi centri sono capaci di gestire questo tipo di problematiche per dare alla pratica clinica, al medico, dell'informazione utile. Mi piace citare un gruppo di ragazzi che ho visto nascere, ho visto crescere, questi ragazzi hanno costruito un algoritmo che si chiama Trace4AD. Questo algoritmo riesce a predire e a fare diagnosi di Alzheimer con molti anni, con fortissima varietà. E questo algoritmo risponde a tutte le esigenze, sia in ambito giuridico, sia in ambito ovviamente medico. Ecco, ma dal punto di vista pratico, come funziona? Allora, nel mio campo, quello di cui mi occupo io, abbiamo due informazioni. O io inserisco dei dati, diciamo così, comportamentali, clinici e li inserisco all'interno di questi grandi computer e il computer ha già appreso precedentemente, perché io gli ho insegnato a riconoscere A da B. Ok? In questo modo il computer, riconoscendolo, riesce ora e pronto per essere testato su nuovi gruppi, su nuove persone. E questo processo è molto lungo, però se viene fatto in maniera ampia, riesce a dare delle informazioni che non devono sostituire il medico, ma devono soltanto accompagnare. È uno strumento esattamente come il cellulare.